Musica Oltre 2.100 confezioni di un farmaco antitumorale e di un preparato stimolante sono state intercettate e sequestrate all'aeroporto di Fiumicino dei finanziari del Comando Provinciale di Roma con la collaborazione del personale del Servizio di Vigilanza Antifrode dell'Agenzia delle Dogane. Nei bagagli di un cittadino serbo sono stati trovati oltre 2.000 pezzi di camagra, farmaco alternativo albiagra, e 100 confezioni di oncoflor in difetto delle necessarie autorizzazioni rilasciate dal competente Ministero della Salute per l'importazione e la vendita nel territorio nazionale. Un altro carico di medicinali, anch'essi privi di autorizzazione, è stato messo in sicurezza prima di essere introdotto illecitamente nel territorio nazionale da un cittadino indiano proveniente da Delhi. Nel bagaglio trasportava oltre 35.000 capsule di spasmo Proxivon e 20 flaconi di Corex. I due passeggeri sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per i reati di importazione clandestina di medicinali e per traffico internazionale di medicinali contenenti sostanze stupefacenti.